Benvenuti, siamo al Final Day di Eesop 6 Season 2015-2016. Partito da poco il Final Day di Eesop 6, sono già 19 i left, tutti a caccia della prima moneta da 27.000 euro. Chip Leader è ancora a rosa del prete con 3 milioni circa di chips quando l'average è 1.540.000. Come sempre a 8 left si andrà al tavolo finale, tavolo finale in rigorosa diretta streaming su pokerfactor.org a carte scoperte, quindi se volete sapere come andrà a finire restate collegati con noi. Grazie. 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 Grazie.